Buongiorno a tutti, subito la base per il coliglio Stamattina il forte caldo ci dà sprono per inventare Quindi facciamo delle polpettine di vitellino a jagrume Fresche ed eccoci al coliglio Finalmente pronto, uno spettacolo come sempre Il sugo perfetto per un grandissimo bucatino Allora, questo è fatto con la carne di vitellino Aromatizzato agli agrumi Adesso lo cuociamo in forno, quindi dietetico Saporito e freschissimo, cosa importante Il sapore degli agrumi rende sempre l'idea del fresco Eccoci al banco, che dire, oggi l'afa si è superata Non si respira, se vedete dal banco esce il fumo Tanto il tasso di umidità Però noi siamo sempre freschi Dallo spirino al couscous, passando per gli straccetti Le nostre cervellatine di hamburger La pancetta da fare arrostita Salsiccia Prosciutto di maiale Imparati Codolette di vitellino La solida trippa La grandissima salsiccia con fior di latte di vico E la nostra punta di coltello Da nostalgico quale sono L'ultimo video di questo meraviglioso coniglio Poi i saluti Saluti per i saluti Salsiccia 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 Grazie a tutti